Il colibri veronese per me è anche il Meli. Almeno a mio parere è un romanzo completo, molto bello, mi ha commosso tantissimo alla fine, ho pianto come una fontana e anche a me è piaciuto molto, soprattutto la parte umana. Non è un libro banale e che ha una conclusione che merita, secondo me può essere un candidato, perlomeno può classificarsi tra i primi tre per tutte le tematiche che sono incluse, per lo stile che usa. Mi piace molto la struttura del libro, mi è piaciuta moltissimo. È lungo, però molto bello. Anche direi sinceramente che sarebbe uno dei tre candidati che dovrebbe vincere il premio a strega.